La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e buon lunedì a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani e andiamo a vedere quali sono le principali notizie partendo dalla prima pagina del mattino nazionale che dedica ampio spazio alla visita ieri a Lampedusa della Premier Giorgia Meloni insieme alla Presidente della Commissione Europea Wunderlein. Vediamo infatti il titolo su quello che poi è stato un po' il resoconto della giornata di ieri. La Wunderlein, come vedremo proprio dalle pagine del mattino, ha assicurato la linea dura sulle partenze ed il pieno sostegno dell'Europa all'Italia per la gestione degli immigrati. Vediamo il titolo, migranti, scusate, stop alle partenze. Siamo a Lampedusa, ha intesa Meloni Wunderlein, su rimpatri e fondi alla Tunisia. Una rivoluzione, pronto anche il decreto anticlandestini. Roma chiederà all'Unione Europea un'accelerazione sui respingimenti. Questo è il titolo dunque con cui apre il mattino nazionale. Vediamo ancora di fondo l'analisi, il disegno comune dei leader che governano e poi la riflessione, gli Stati Uniti e quella sfida imprevedibile. Restiamo in alto il premio del mattino, il Serao 2023 alla Mazzucco, così la scrittura diventa vita. Nella fotonotizia invece il calcio in primo piano, si parla del Napoli con il pareggio contro il Genova. Un pareggio che non piace in particolare ai tifosi con le critiche che arrivano anche dalle pagine del mattino. Vediamo, troppo brutto per essere vero questo il titolo. La difesa, Quara, Anghissà, irriconoscibili, non è il Napoli. Garzia è il fantasma dell'opera tricolore. E poi ancora centropagine, cambiamo argomento, cambia il codice della strada con nuove restrizioni. Vediamo, codice della strada stretta per chi guida con il cellulare. Multe fino a 1.600 euro e 10 punti in meno oggi in Consiglio dei Ministri. In Consiglio dei Ministri ha anche maggiori tutele per i ciclisti. Sanzioni pecuniarie triplicate per chi guida parlando o chattando al telefonino. La multa potrà arrivare fino a 1.600 euro. Non solo, i punti tolti dalla patente, se si è recidivi, potranno salire a 10. E questo, insieme ai controlli salivari immediati per chi guida in stato di ebrezza sotto effetto di sostanze stupefacenti, una delle novità del codice della strada che, salvo sorprese, sbarcherà oggi in Consiglio dei Ministri. E poi andiamo a Torino, il dramma, freccia precipitata, indagato il pilota. Penso solo a Laura. In basso siamo a Caivano, il procuratore dal parroco. Qui un nuovo patto civile, Melillo in chiesa con Don Patriciello. In alto, invece, nei box sotto il titolo di testata, le interviste impossibili a Francesco Crispi, Io, uomo del sud, ho creduto nei mille. E poi, invece, per la Formula 1, il grande risultato della Ferrari con Sainz, capolavoro Sainz, la Ferrari torna a vincere a Singapore. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Vediamo, invece, i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo, in apertura arriva la stretta del comune di Salerno. per quanto riguarda i distributori che consentono l'acquisto di sostanze alcoliche anche dopo la mezzanotte. Vediamo, distributori H24, c'è la stretta. Così apre oggi il mattino di Salerno. Invasione di punti ventita con alcol anche dopo la mezzanotte. basta concessioni facili, bevande a poco prezzo comprate anche dai minori, tringali controlli su orari e limiti di età. Restiamo in alto. Agri-food, un turismo sostenibile con le vie del gusto. È la sostenibilità uno dei temi principali della seconda giornata di Agri-food Future. La cinque giorni promossa a Salerno da Union Camere e Camere di Commercio per offrire un confronto aperto sul futuro del settore agroalimentare. Di fondo, invece, Nocena Inferiore, Bonus Ims, Ancora Bufera e i tre assessori se ne vadano. E poi siamo a Scafate, a Liberti attacca, Pride, Volgarità contro di me e scoppia la lite. Andiamo a centro pagina. La cronaca. Il giallo di Albanella, picchiati a sangue, avevano denunciato un furto in casa. Marito e moglie aggrediti con martello e mazze da tre immigrati. L'uomo è grave, trasferito a Napoli. Mentre ancora la violenza, Eboli maxirissa tra ragazzini, il video diventa virale sui social. Nella fotonotizia, invece, si attende la gara della Salernitana prevista per questa sera contro il Torino. Quindi Granata tornano alla Rechi. Vediamo Sosa chiude il caso di A e rilancia, così possiamo fermare il Torino. Tegola a Coulibaly, ma carica Rechi, caccia al primo successo. In basso, la rubrica punti di vista, Gianni e il romanzo familiare di Brahms. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo avanti, andiamo ora invece a vedere i principali titoli per la prima pagina del quotidiano, le cronache. Vediamo in apertura calcio e politica, sono questi due temi con cui apre oggi le cronache. Vediamo l'intervista rilasciata da Guido Milanese al quotidiano europee. Partiamo da Martuscello con noi attori e cantanti. Quindi Guido Milanese presenta il Berlusconi dei. E poi invece per il calcio mancano Dia e Coulibaly. Sosa suona la carica, bisogna vincere. Alla Rechi arriva il Torino. Ancora in alto, restiamo in tema calcio. La di Milan, il Campo Volpe, la Salernitana prepara l'esodo a Bari. Andiamo a centro pagina. La storia dalla canna fumaria molesta al Tribunale dei minori. Viaggio all'inferno di una famiglia salernitana. Voleva solo la tutela dei propri diritti. Trova soprusi e minacce. E a Eboli il centro storico ridotto ad una discarica a cielo aperto. Ancora si parla ampiamente su questa edizione del quotidiano Le Cronache. Anche di peste suina africana. Il commissario Caputo apre ai piccoli allevatori. E poi ancora non c'era il scandalo Social Card. Il sindaco è stata fatta una leggerezza. Chieste le dimissioni dei tre assessori che hanno ricevuto la Social Card. E poi la manifestazione Operazione Avalanche a Campagna. Il ricordo del bombardamento alleato. Questa è la prima pagina di Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale. Quindi andiamo ad approfondire i temi che abbiamo appena visto. Partendo proprio dalla visita a Lampedusa della Premier Meloni. Insieme a Ursula von der Leyen. Che si sono recate nella giornata di ieri. Proprio a Lampedusa. Presso l'hotspot. Gli hotspot anche per verificare effettivamente le condizioni dell'isola. In particolare per farle conoscere direttamente all'Europa attraverso la von der Leyen. Vediamo il titolo su queste pagine di primo piano. Meloni von der Leyen. Asse sulla linea italiana. Fermare le partenze. Questo è il titolo. Visita a Lampedusa. Intesa sulla difesa dei confini. Una rivoluzione. Ursula avverte. Decidiamo noi chi può entrare. Non i trafficanti. Contrasto ai viaggi illegali o i numeri di questa ondata. Travolgeranno tutti. Queste le parole della Premier. E poi quest'isola è il nostro confine. La risposta deve essere europea. Questa invece è una parte delle parole di Ursula von der Leyen. Il Premier percorsi a parte per donne under 14. Presenti anche Piantedosi. E la commissaria Johansson. E poi andiamo in basso. I Solani in piazza. Bloccate le due leader. Giorgia li affronta. Io ci metto la faccia. Prima la protesta. Poi qualcuno grida al Premier. Brava. Incontro con il questore. Gli abitanti offrono camomilla. E' stata condannata Lampedusa. Vogliono fare qui un centro di trattenimento o rimpatri per i migranti. Io non ho ascoltato un secco no. Non ci sacrifichiamo per tenere unita l'Europa. Il volto del malessere dei Lampedusiani ricorda quello di un corsaro, orecchino e barbone nero. E' Giacomo Sferrazzo, leader del movimento. Sferrazzo alla Meloni. Qua è trent'anni che siamo violentati. Ora per una settimana dobbiamo respirare. Io sono un padre di famiglia. Mi hanno abituato che se dico una cosa la faccio. Siamo nella festa della Madonna di Porto Salvo. Per noi è una cosa importante. Non uno scherzo. Queste sono alcune delle parole che hanno caratterizzato il dialogo tra la premier Giorgia Meloni e il leader che ha guidato la protesta a Lampedusa. Lasciamo questa pagina. Continuiamo sempre su questo tema. Quindi continuiamo con la visita a Lampedusa per decidere su una linea comune tra tutti i paesi europei contro l'immigrazione. Per affermare l'immigrazione vediamo arrivi legali e rimpatri veloci. Il piano dell'Unione Europea è in dieci punti. Le misure annunciate da Wonderline. Identificazioni più rapide per chi arriva. Incentive ai migranti che scelgono di tornare volontariamente nel loro paese. Vediamo quali sono i dieci punti su cui è pronta ad intervenire l'Unione Europea. Come abbiamo detto, l'identificazione rapida all'arrivo. Trasferimenti dell'Unione Europea da Lampedusa. Accordi con i paesi d'origine per favorire i rimpatri. Lotta agli scafisti con Frontex e Europol. E poi sorveglianza aerea e missione navale dell'Unione Europea. a distruggere le barche degli scafisti. Respingimenti più veloci. E ancora corridoi umanitari e percorsi di arrivo legali. Incentivi per i ritorni volontari in patria. Ed erogazione dei fondi alla Tunisia. E poi andiamo in basso lo scenario. Il premier Tajani all'ONU. Pressing per ottenere più investimenti in Africa. Da oggi l'Assemblea Generale l'Italia vuole coinvolgere Nazioni Unite e USA in un piano che stabilizzi il Maghreb. Il vicepremier insiste sul diritto a non emigrare aiuti economici per evitare l'esodo di 2 miliardi e mezzo di persone. E chiudiamo anche questa pagina. Andiamo avanti. Cambiamo però argomento. Parliamo ora di politica. In particolare in vista delle prossime elezioni europee. C'è l'asse tra Lega e Salvini e Le Pen. In vista proprio delle prossime elezioni. Vediamo la manifestazione leghista. C'è anche Marine Le Pen. Vediamo il patto Salvini e Le Pen. Vinciamo in Europa. Pontida intesa per una internazionale sovranista. Entro l'anno un evento in Italia. Matteo invita il centrodestra all'unità e sostiene Meloni. Noi al governo 10 anni. E poi vediamo le immagini che raccontano la giornata di raduno di Pontida della Lega. Vediamo a sinistra Matteo Salvini con Marine Le Pen che arriva sul palco di Pontida. Sotto poi la compagna della leader del carroccio con la t-shirt dell'evento. E ancora vediamo poi in queste immagini la folla sul sacro prato di Pontida. e dove si tiene dal 1990 la Kermesse e sopra poi una militante con una t-shirt pro-Trump. Andiamo avanti. Il segretario del carroccio firma la dichiarazione dei popoli e delle nazioni presentata dalla francese. In basso il personaggio, Giorgetti da voce all'anima governista, penso al debito, ci costa 14 miliardi. Dal ministro dell'economia l'elogio dell'equilibrio, anche per quello ci vuole coraggio. Sia la tassa sugli extraprofitti, partito compatto, i governatori Zaia e Fedriga presenti sul pratone. Questo per quanto riguarda invece la festa a Pontida della Lega. Andiamo avanti, cambiamo ora argomento. Parliamo invece di quali sono le misure del governo in vista della prossima legge di bilancio. Vediamo. Tasse piano del governo, aliquota IRPEF ridotta ai redditi fino a 28 mila euro. Il vice ministro Leo, allargare una platea maggiore di contribuenti, il prelievo del 23%. Meloni, la riduzione del cuneo fiscale per tutto il 2024 è la priorità dell'esecutivo. Il taglio dell'imposta serve ad ampliare il beneficio nelle buste paga dei dipendenti. Per le imprese che investono e incrementano l'occupazione, l'IRES scenderà dal 24% al 15%, quindi quasi di 10 punti percentuali. E poi il caso, siamo qui nel Salernitano, precisamente a Nocera. Vediamo social card a tre assessori, inopportuno, ma restiamo. Polemica a Nocera, l'opposizione via, il sindaco del PD, niente di illegale, gireranno i benefici dell'Inps ai servizi sociali. Questa è la promessa del sindaco di Nocera. E chiudiamo anche questa pagina, ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, sfogliamo le pagine dei quotidiani salernitani. Siamo sul mattino di Salerno e si parla proprio della polemica che si è innescata con il ricevimento da parte di tre assessori della maggioranza delle social card. E' intervenuto anche il sindaco della città di Nocera Inferiore. Vediamo. Bonus Imps ancora a bufera. Gli assessori si dimettano queste le richieste. Non basta la difesa da parte di De Maio che finisce nel Medino. Così è complice. Le opposizioni insistono con le accuse. Fratelli d'Italia porteremo la vicenda in Parlamento. Sbagliato definire leggerezza uno sfregio alla comunità e c'è chi dubita della veridicità delle dichiarazioni ISEE. Non è per niente finita la vicenda come il sindaco Paolo De Maio aveva uspicato della carta solidale dell'Inps ritirata da tre suoi assessori. Mimma Lamberti, Renato Guerritore e Umberto Iannotti. Per me la storia finisce qui, aveva detto il sindaco democratico di Nocera Inferiore in conferenza stampa. Ma probabilmente dovrà ricredersi nelle ultime ore. Sono stati diffusi diversi comunicati di forze politiche che chiedono una soluzione diversa da quella adottata da De Maio. e cioè il licenziamento dei tre assessori, tra cui anche il vice sindaco Iannotti. E poi andiamo in basso. Siamo a Scafate, a Liberti, al Pride. Ho subito la violenza del pregiudizio. Battaglia social sull'evento di Scafati. Gli organizzatori, primo cittadino trattato con rispetto. Stop propaganda. Questa è la replica degli organizzatori. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo ancora sulle pagine di cronaca del mattino di Salerno. Siamo ad Albanella, vediamo, picchiati a sangue nel bar, avevano denunciato un furto. Terrore ad Albanella, marito e moglie assaliti da tre stranieri con martello e mazze. L'ipotesi una vendetta contro la coppia che aveva sorpreso in casa due immigrati. Di marito e moglie, brutalmente picchiati in un bar dinanzi agli occhi, terrorizzati degli altri clienti. L'episodio di violenza si è verificato sabato sera in un locale di Matinella, nel comune di Albanella. Vittima della furia di tre extracomunitari è stata una coppia residente ad Altavilla Silentina. Entrambi i coniugi sono stati presi a bastonate e colpiti con un martello. L'uomo, per la gravità delle condizioni in cui è stato ridotto, dopo un primo ricovero all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stato trasferito a Napoli. Nell'aggressione ha riportato profondi ferite e brutti traumi con emorragia interna. Meno gravi ma altrettanto preoccupanti le condizioni della moglie. L'episodio ha sconvolto la comunità locale sotto shock. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'episodio. Andiamo avanti, andiamo ora. Eboli, centropagina Eboli. Maxirissa tra ragazzini, cinque feriti con un accoltellato. La lite ripresa con gli smartphone virali sui social. Almeno 30 giovani coinvolti. Ci sono anche minorenni. In basso invece la sentenza morte di buono, impossibile ricostruire la dinamica. Il 34enne trovato senza vita nel 2013 a Castello San Giorgio ha assolti tre accusati di omicidio. Tanti dubbi difficili da sciogliere. E lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti, ci spostiamo ora sul quotidiano Le Cronache. Andiamo a Eboli, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, dove si sono rinvenuti i rifiuti sversati anche nel centro cittadino. Vediamo infatti il titolo. Nel centro storico discariche a cielo aperto e odori, maleodoranti, materassi abbandonati, plastica e umido, tra sporchissimi marciapiedi e materiale di ogni genere. Mobili, ingombranti e rifiuti di ogni genere buttati all'interno di case diroccate. Discariche a cielo aperto, materassi abbandonati, plastica e umido, tra sporchissimi marciapiedi e materiale di ogni genere gettati a pochi passi dalle abitazioni. Tutto contornato da un olezzo nauseabondo. Questo è lo stato delle cose nella città vecchia di Eboli, area da tempo alle prese con una situazione invivibile e a dir poco inaccettabile. Ma forse la notizia che più ha fatto clamore e arrabbiare tanti abitanti del posto è stato il ritrovamento di mobili ingombranti e rifiuti di ogni genere buttati all'interno di case diroccate. E lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti ancora sul quotidiano Le Crona che è ampio spazio dedicato alla peste suina africana. Vediamo il fatto sulle pagine del sud della provincia di Salerno. Peste suina africana, commissario Caputo apre ai piccoli allevatori. Ospite a Bra in occasione dell'evento Cheese di Slow Food, Vincenzo Caputo annuncia tavoli tecnici con aziende. La malattia è diventata una grave emergenza per le realtà territoriali. Anche i più piccoli devono avere voce in capitolo. Da qui a 30 giorni ci sarà la riunione organizzativa. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul tema. Restiamo quindi sul tema della peste suina africana perché interviene anche l'assessore. Vediamo peste suina, piano di depopolamento dei cinghiali e ristori per gli allevatori. La zona rossa istituita nel maggio scorso per fronteggiare l'infezione da peste suina africana è stata ridotta da 17 comuni a 8. È stato approvato l'avviso pubblico per l'accesso agli aiuti straordinari. Si è data così piena attuazione a quanto indicato dal presidente De Luca. La zona rossa istituita nel maggio scorso per fronteggiare l'infezione da PSA è stata ridotta da 17 a 8 comuni. Ossia Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula e Caselle in Pittari. Sono questi quindi gli 8 comuni individuati che restano in zona rossa. Contestualmente partono i ristori per gli allevatori. Stiamo mettendo in campo con rigore tutte le misure necessarie e siamo vicini agli allevatori e territori assicurando certezza e rapidità dei risarcimento non solo per le aziende sui nicole commerciali ma anche per quelle ad uso familiare. Lasciamo anche questa pagina. Andiamo avanti ancora sul quotidiano le cronache ma cambiamo argomento. occupiamoci ora di sport della Salernitana in vista della gara di questa sera contro il Torino. Vediamo Salernitana finalmente si gioca alla Rechi che corrida con il Toro. Questo è il titolo. Seconda gara a Casalinga per i Granata che ospitano la compagine di Ivan Juric. Calcio d'inizio alle ore 18.30. L'11 di Paolo Sosa dovrà archiviare la sconfitta di Lecce, il caso di A e l'infortunio di Coulibaly per provare a battere Zapata e compagni. Vediamo quali sono le possibili formazioni per quanto riguarda la Salernitana. Ochoa in porta, Pirola, Ghiomber e Lovato, Bradaric, Lagoschi, Mazzocchi e Boinen ancora in centrocampo e poi Candreva e Castanos dietro la punta, Cabral. Mentre per quanto riguarda il Torino, Ivan Juric potrebbe puntare su Savic per quanto riguarda la porta, Schurz, Rodriguez e Buongiorno, quindi difesa a tre. Per quanto riguarda invece il centrocampo, Bellanova, Linetti, Ricci e Lazzaro, Tamese e Radonic dietro la punta, Zapata. Vediamo ancora il caso di A e a Salerno, oggi sarà alla Rechi. E lasciamo anche questa pagina, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti.